Paura venerdì sera nella serie dell'Eurobrico al parco commerciale di Cassola in via Giovanni Paolo II. Attorno alle 18 e 30 è scattato l'allarme di evacuazione del negozio causa incendio. Tutte le persone che si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale sono state fatte uscire, mentre sul posto arrivavano due automezzi dei vigili del fuoco di Bassano. I pompieri, dopo un rapido sopralluogo, hanno subito identificato l'origine del fumo che usciva dal tetto arginato e bloccato il rogui, evitando che le fiamme divampassero e intaccassero la struttura. Scongiurato il peggio, nessuno è rimasto ferito.